Si chiama Fondazione Scuola ed è un fondo di rotazione e garanzia per concedere agli enti locali prestiti per progetti destinati all'edilizia scolastica. Il progetto è stato lanciato da Inarcassa, la Cassa di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti, e dalla sua fondazione, con un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'obiettivo è collaborare per garantire la prevenzione dei rischi e la sicurezza nelle scuole. Per le poche risorse economiche in cassa o per mancanza di competenze professionali, gli enti locali, in particolare i comuni, non riescono sempre ad accedere ai finanziamenti statali per l'edilizia scolastica. Fondazione Scuola mette così a disposizione un plafond di 2 milioni di euro, equamente ripartito per le 20 regioni italiane, per anticipare senza interessi i costi delle progettazioni che gli enti locali si impegnano ad affidare a professionisti iscritti a Inarcassa in regola con gli adempimenti previdenziali. Il presidente di Fondazione Inarcassa è Gidio Comodo. L'importanza di questo fondo è estremamente rilevante. In una realtà come quella italiana, dove gran parte del patrimonio edilizio risulta essere antecedente all'entrata in vigore della normativa sismica, è immaginabile quanto sia particolarmente importante porre in campo delle risorse finanziarie che facilitino le amministrazioni comunali nel presentare progetti finalizzati alla richiesta di finanziamenti per l'appunto destinati alla rigenerazione dei loro edifici o alla realizzazione di edifici ex novo. I progetti finanziabili dal fondo, massimo 50.000 euro ciascuno, potranno riguardare la costruzione di nuovi fabbricati destinati all'edilizia scolastica, l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza, l'adeguamento e il miglioramento sismico delle scuole. Per il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli È davvero molto significativo la scelta che viene fatta anche da loro avendo individuato la messa in sicurezza e il rinnovamento del parco scolastico come uno dei punti fondamentali per il Paese.